Ben ritrovati, oggi parleremo della nuova stagione per il turismo in costiera amalfitana, il nostro ospite negli studi di Salerno è il sindaco di Amalfi Daniele Milano, ben ritrovato sindaco, grazie per la sua disponibilità. Allora l'estate possiamo dire ormai è iniziata anche dal punto di vista climatico, quali sono le vostre aspettative per questa nuova stagione? I numeri che registriamo sono numeri in forte crescita, già il 2022 è stato un anno di prepotente ripresa soprattutto con il ritorno dei turisti stranieri che ormai raggiungono il 90% delle presenze che registriamo in città, questi sono dati ufficiali estrapolati dal software della tasse di soggiorno. È indicativo dell'appetibilità della costiera che è una località che ha ripreso il suo iter di crescita costante nel campo del turismo. Ecco, in primo piano c'è naturalmente la questione della viabilità in costiera, le targhe alterne sembrano non bastare, ecco perché, quale sarebbe la soluzione più idonea secondo voi? I sindaci della costiera da anni lavorano per condingentare questo fenomeno che per decenni ha caratterizzato negativamente l'immagine della costiera amalfitana. Le targhe alterne sono un rimedio tampone che abbiamo collocato temporalmente sino all'attivazione della ZTL territoriale, questo progetto che abbiamo lanciato a settembre del 2018 che si è fatto in testa istituzionale e che oggi è al vaglio degli organismi ministeriali e del Parlamento con una proposta di legge di modifica, di piccola modifica del codice della strada che consentirebbe di estendere a un territorio superiore a quello dei centri storici a cui siamo abituati a legare l'idea di ZTL, quindi anche centri extraurbani, la possibilità di poter condingentare il flusso di veicoli per poter governare in maniera più equilibrata i traffici veicolari su un territorio. Chiaramente, Sindaco, vanno gestiti i flussi turistici, voi come Comune di Amalfi avete varato il piano di sviluppo turistico, che cosa prevede intanto? A luglio dello scorso anno è stato approvato il piano di riqualificazione turistica post-Covid redatto dal professore Josef Ejark, che è uno dei massimi esperti internazionali di turismo e gestione delle destinazioni, tra l'altro incaricato del ruolo di destination manager, destination manager a capo di una struttura che si chiama DMO, che è la prima in regione Campania, che è operativa, che è incaricata di attuare questo piano e che ha un'idea a cuore, che è quella di ridurre le presenze medie di picco, oggi attestate intorno alle 18 mila giornaliere, prima a 14 mila e poi a 10 mila. C'è un tema che è quello della sostenibilità di un luogo dove oltre a determinati limiti iniziano a stare tutti male, sia i turisti che i residenti, e questa è una cosa che noi non ci possiamo permettere, ed è per questo motivo che ci stiamo facendo portavoce sia della proposta della ZTL territoriale, che peraltro è stato oggetto di una discussione al Ministero recentemente, che sappiamo verrà calendarizzata nelle competenti commissioni parlamentari, quindi ci aspettiamo a breve delle buone notizie. e anche per quanto riguarda il contenimento del fenomeno della diffusione del turismo ex alberghiero delle biembi e case vacanze, che a mio avviso necessita di poter essere disciplinato da parte dei comuni, altrimenti rischia di ingenerare come di fatto sta ingenerando, senza criminalizzare chi lo fa, insomma delle distorsioni a danno della residenzialità, ma anche per un eccessivo flusso di persone che poi si regano in luoghi molto fragili e molto particolari, come sono i centri della costiera amalfitana, quindi se con la ZTL territoriale ci siamo concentrati sulla parte determinata del problema, forse è il caso di iniziare a concentrarsi anche sulla testa e l'origine. Certo, sarebbero necessari anche maggiori controlli, perché da tempo si segnalano anche fenomeni di abusivismo, ad esempio nelle strutture alberghiere nel Salernitano. Ecco, Sindaco, intanto il turismo a mordi e fuggi come va contrastato, perché è quello il fenomeno che evidentemente crea maggiori disagi in costiera. Ci sono delle leve che si possono attivare, alcune sono quelle dei prezzi, perché chiaramente di fronte a una domanda così sproporzionata rispetto alla capacità di accogliere è chiaro che si movimentano il discorso dei prezzi, ma è necessario cercare di educare anche le persone a sapere che possono fruire di località, non necessariamente in determinati orari, in determinati giorni, che sono poi quelli più trafficati, anche perché ne varrebbe meno la visita e l'esperienza che fanno nei nostri luoghi. Possono scegliere di venire ad Amalfia, ad esempio la sera, che è un posto assolutamente piacevole, un'atmosfera assolutamente da provare, o magari in periodi dell'anno meno gettonati, ma che secondo me sono i migliori in assoluto, che sono proprio quelli che vanno da ottobre a marzo. Ecco, si tratta di capire che se andiamo ad esempio a casa di qualcuno a pranzo e questa persona ha una piccola cucina, forse non ci possiamo entrare in trenta perché magari dal quinto in poi iniziamo a stare tutti male. Ecco, intanto c'è stata una giornata storica per Amalfia, avete inaugurato il nuovo serbatoio di Tovere, mai più emergenze è stato detto, qual è il significato di questo risultato? Allora, il significato è che ci sono, come ho detto, opere che fanno poco rumore, come ad esempio la realizzazione di un serbatoio che forse non conquista i titoli dei giornali, però stiamo imparando come si è delicato l'equilibrio anche delle cose più semplici a cui siamo abituati e questo ce lo dicono i cambiamenti climatici così poterosi che stiamo subendo, soprattutto nel corso degli ultimi anni. Quindi l'emergenza dell'acqua è un tema e soprattutto per le frazioni alte di Amalfi, i cui abitanti si erano quasi abituati in determinati momenti dell'anno, soprattutto d'estate, a rimanere ore senza acqua, questa soluzione del serbatoio ovviamente risponde a questa emergenza, quindi è una grande conquista di civiltà e con il taglio del nastro abbiamo voluto simboleggiare una consegna di un'opera strategica per la città e per le generazioni future. Ecco, al di là del turismo, la questione dei servizi in costiera amalfitana, l'impegno dei sindaci, quale dovrebbe essere soprattutto sul fronte ad esempio dei servizi sanitari secondo lei? Allora ci sono state alcune riunioni con il sindaco di Minori che è delegato della conferenza dei sindaci per quanto riguarda la sanità e i sindaci hanno rappresentato le esigenze del territorio e registrato da parte della direzione generale dell'AS una situazione che a mio avviso credo sia utile che i cittadini conoscono e che è quella della carenza dei medici, abbiamo sinora parlato di turismo dove si registra in costiera ma forse in ambito nazionale una carenza di lavoratori perché non conosco una sola attività di amalfi che non sia in sotto organico rispetto alle necessità che avrebbe per la propria impresa, il direttore generale ci ha detto guarda mancano i medici, facciamo i concorsi ma molto spesso non riusciamo nemmeno a riempire i posti che bandiamo e questa è una cosa che i cittadini devono sapere perché molto spesso poi ci si rivolge alla politica con un senso di riprovazione, quasi di odio senza sapere però che ci sono delle carenze strutturali che non dipendono nemmeno dai sindaci stessi. Ecco sul fronte sempre dei servizi pensiamo anche al futuro urbanistico di questo territorio e lei come sindaco di Amalfi come guarda ad esempio la questione dei parcheggi e dei trasporti quali potrebbero essere le soluzioni secondo lei? Allora oltre alla ZTL territoriale che è a mio avviso la soluzione strutturale per poter gestire il traffico in costi di Amalfi Nare perché consentirebbe con un sistema di varchi e sottovarchi sul nostro comprensorio che ha 4 accessi, 2 da mare a Bietre e Positano e 2 montani a Tramonti e da Gero di poter governare a monte il numero di veicoli in circolazione. Noi quest'anno abbiamo lanciato un'applicazione che consente il monitoraggio in tempo reale dei posti auto presenti nei parcheggi di Amalfi di assoluta utilità perché serve ad orientare i residenti a sapere dove possono trovare posto ma anche per chi si mette in macchina prima di arrivare ad Amalfi ha la possibilità di capire se la località è già satura e in quel caso scegliere un'altra località. Questo sistema applicato in tutti i comuni della costiera amalfitana con la ZTL territoriale consentirebbe anche uno sviluppo ordinato tra le località stesse perché i turisti sarebbero portati a recarsi lì di dove c'è spazio. Questo è per quanto riguarda la mobilità, credo che ci sia un tema importante che è quello della realizzazione dei parcheggi pertinenziali perché credo che sia interesse di tutti delle amministrazioni civiche, delle sovrintendenze che si occupano di tutelare il paesaggio ma anche degli organismi preposti alla tutela del rischio idrogeologico di cercare di togliere le auto dalle strade che in un certo qual modo siamo abituati a vedere ma che in realtà dovrebbero stare altrove perché sarebbe bello poter transitare in costiera amalfitana e non trovarsi in alcuni tratti il muro di auto che copre la vista del mare. Sarebbe sicuramente paesaggisticamente più bello poter godere della vista che la nostra costiera ci riserva. L'opera strategica per Amalfi è la realizzazione del bypass, abbiamo un progetto preliminare approvato, si tratta della variante ai centri di Amalfi e Atrani che consentirebbe di bypassare un tratto estremamente trafficato dove sono presenti nodi estremamente complessi dal punto di vista del traffico, ovvero il bivio di Castiglione, Atrani e ovviamente il gorgo del centro di Amalfi. Abbiamo l'impegno economico per realizzare una progettazione esecutiva per il primo tratto che consentirebbe la pedonalizzazione del centro di Amalfi, altro tema assolutamente importante perché paghiamo lo scotto di avere il nostro centro commerciale che è sovrapposto all'unica strada di accesso per la parte alta del paese dove abitano 3 mila abitanti e quindi è un gioco a somma zero nel senso che anche le soluzioni tampone di chiudere il traffico per alcune ore in realtà però generano altri disagi per chi abita, per chi non si può ritirare a casa e non può uscire da casa. Al tempo stesso è molto sconveniente che ci sia questo traffico veicolare e speriamo che in tempi ragionevoli si possa arrivare a quest'opera che secondo me segnerebbe il definitivo cambio di passo per l'immagine della nostra città. Insomma l'idea è chiara, si punta a un turismo stanziale ma sostenibile mi pare di capire, soprattutto per la città di Amalfi. Intanto le chiedo Sindaco, il turismo croceristico sta avendo un fortissimo aumento nel porto di Salerno. Voi che riflessi state riscontrando sul vostro territorio? Io credo che il turismo croceristico, più o meno in generale l'organizzazione delle crociere, debba confrontarsi con il territorio, nel senso che sono strutturate in una maniera che è un po' avulsa rispetto alla gestione del territorio, nel senso che le giornate di rata vengono decise a Miami con due anni di anticipo, però chi organizza le crociere è interessato a quello che accade tra il punto di rata e la banchina. Poi quello che succede a terra non è affare loro, è affare di chi gestisce il territorio, per cui sarebbe utile che ci mettessimo d'accordo per sapere con sufficiente anticipo quante persone, quanti veicoli che dovrebbero poi trasportare queste persone da un punto ad un altro arrivano su un posto, perché diciamo che in determinati momenti ci sono dei problemi ulteriori che si aggravano alla già critica viabilità, proprio perché magari c'è un surplus di movimentazioni dettate anche dai croceristi che scelgono e di questo ne siamo sicuramente felici, la nostra località, ma che oltre un certo limite poi, come ho detto prima, iniziamo a stare un po' male. È tutto un fatto di organizzazione, se riuscissimo a trovare i giusti tavoli per poter condividere quelli che secondo me sono problemi reali che non sono mai stati oggetto di un confronto, sicuramente ne beneficerebbero i territori e anche i turisti che scelgono le crociere. Insomma, lei chiede maggiore concertazione, discorso che va fatto l'anno prossimo anche per il Costa d'Amalfi, l'aeroporto che porta il nome proprio del vostro territorio. Per chiudere, Sindaco, questa nostra intervista, quali sono le aspettative anche di Amalfi guardando proprio all'aeroporto di Salerno? Noi con il piano redatto dal professore Jark ci siamo dati gli obiettivi che è quello di riposizionare la nostra località come destinazione boutique e premium. Se parlo di riposizionamento è perché sappiamo di dover fare tutta una serie di azioni per cercare di riqualificare l'immagine e anche la qualità dei servizi, facendo delle scelte che possono essere vissute magari male da alcune categorie piuttosto che in altre, ma è bene chiarire che si tratta di soluzioni che volgono verso un obiettivo e che non sono intraprese contro qualcuno. È interesse di tutti cercare di innalzare la qualità e di ridurre i congestionamenti che si registrano in alcuni ambiti, il caos in generale e questo lo possiamo fare con la concertazione che abbiamo avviato all'interno del tavolo di coordinamento turistico che è un organismo che lavora di concerto con l'ADMO e che si occupa appunto di fare sintesi con le decisioni che il piano prevede di attuare. Bene abbiamo concluso, grazie al sindaco di Amalfi Daniele Milano, Amalfi è sempre la perla possiamo dire della costiera amalfitana, in regia per noi Orlando Matarazzo, grazie a voi che ci avete seguito, arrivederci.